musica 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 francema non devi fare i compiti? si a che ora inizi? eh...spo dai su, spegni la playstation per il momento faccio solo italiano che facciamo? andiamo a svegliare Valentina? se non svegliare Valentina musica 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 voglio sapere i compiti musica 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 allora mi hai svegliato apposta vediamo come io musica 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 la granita con brioche che brioche con brioche per colazione e una cosa divina eh non ho visto la cena è un modo per prendere in giro quelle che vengono dal nord musica smettila forza forza fai i compiti fai i compiti a casa da solo bravo devi stare attento in classe e devi aprire il cervello quando la maestra spiega e quando fai i compiti qua a casa da solo e devi studiarci assaggiare è verbo è verbo hai già sottolineato migliore musica io sono un zecchione si 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 guarda che se ti impegni come ci riesci a essere il zecchione della classe veramente? ma certo solo che non ci mettono l'impegno non lo dicono tutti oh vedi non riesco a aprire bene il cervello ecco musica ma perchè se tu già stai lavorando vuoi fare l'università musica 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 musica